Contro Ravenna per 3-1, primi due sette davvero di ottimo livello da parte della Lube, poi forse un piccolo calo di concentrazione nel terzo. Sì, le prime due sette abbiamo veramente espresso una grandissima pallavolo, poi nel terzo purtroppo loro hanno sbagliato di meno, noi siamo un po' calati, abbiamo aspettato un po' troppo, però nel quarto sette siamo stati bravi a tornare subito aggressivo per non farci credere. Una Lube in crescita mi sembra in queste ultime partite, anche dal punto di vista psicologico il superamento del turno di Champions è stato molto importante. Sì, ma già contro Parigi avevamo fatto un'ottima partita, Giulio aveva fatto già una buonissima partita, adesso piano piano sta trovando le misure, anche Bartek, poi stiamo recuperando anche tutti i giocatori, questo è anche importante. Quindi è vero che in quel momento stiamo allenando e stiamo crescendo e questo è importante per la fine. Dieci giorni dalla sfida contro il Belciato per la prima partita, che condizioni ha la Lube in questo momento? Diciamo che siamo stati molto contenti di aver superato il turno e quindi adesso ce la giochiamo contro tutti e Berkatov è sicuramente una squadra forte, però noi possiamo fare di tutto per batterle e questo è importante. Quindi la settimana prossima già dobbiamo vedere contro Piacenza e dopo penseremo alla sfida contro i Polacchi che sarà molto importante. Anche a te la domanda, questa nuova casa molto accogliente, tantissima gente anche stasera. Sì, due partite e due sold out, più di 4.000 persone, è bello giocare in un palazzetto così ovviamente per noi giocatori. Quindi spero che su parecchie partite ci saranno tanta gente per seguire perché la pallavolo nella regione è molto importante, siamo campioni d'Italia e è importante avere un sostegno molto caloroso. Grazie.